Un mese fa abbiamo avuto una donazione da parte dell'Istituto del Berghero e oggi abbiamo consegnato tre computer ricondizionati di dieci che saranno forniti alle famiglie della scuola. È un nuovo progetto che sta funzionando e quindi invitiamo altre scuole, istituti, studi professionali, anche privati che abbiano computer ancora funzionanti ma un po' vecchiotti, monitor, stampanti, di portare la Gulliver via Toscana 111. I nostri volontari, bravissimi ragazzi, giovanissimi, esperti di computer, ricondizionando questi computer e limitando un po' a disposizione delle famiglie con qualche difficoltà. Computer compresi di stampante, monitor, webcam e tastiera. Un'idea lanciata dal Presidente Franca, una bellissima idea che sta funzionando e quindi utilissima in città e di cui siamo contentissimi con il mio progetto. Già alcuni studenti nel pomeriggio vengono a fare i volontari alla Gulliver e poi la novità è che i studenti che hanno un piccolo problema durante l'anno disciplinare o altro, in collaborazione con la Breva, verranno alla Gulliver e saranno impiegati come volontari in attività nella città, quindi polizia dei parchi, tutte le attività che facciamo giornalmente come Gulliver. Un sodalizio con la scuola che continuerà anche nei prossimi mesi. Sì, nuovi progetti anche con i ragazzi con disabilità nella scuola. L'alberghiero è una scuola stupenda che sta crescendo, una scuola che forma oltre la sala da bar, ma forma anche i nuovi dirigenti che potranno essere anche dirigenti della Gulliver. Quindi siamo contenti, i ragazzi sono tanti che vengono da noi e quindi stiamo crescendo insieme. Un mesetto fa abbiamo fornito l'Onlus Gulliver di computer obsoleti che avevamo e quindi funzionanti in parte o comunque con cose un po' da sistemare. E loro in brovissimo tempo l'hanno rigenerati, tre, ma ce ne sono altri in cantiere, e quindi noi già stamattina ne abbiamo donati a tre studenti della nostra scuola. Quindi ecco, questo ci fa enormemente piacere perché abbiamo visto già i frutti del nostro sodalizio che abbiamo con la Gulliver. Devo dire anche un'altra cosa perché di cose con le Gulliver ce ne sono altre. Diciamo che era stata lanciata anche in quell'occasione del defibrillatore, anche una collaborazione per gli studenti un pochettino più irrequieti, dico io. Le cose belle sono due. Uno, che stanno calando in casi difficili di sospensione o altro, ma due, che invece aumentano i casi di collaborazione con volontari e di volontariato, perché i ragazzi magari vengono a conoscenza di questo mondo così e dicono vabbè perché non possiamo dedicarci anche a fare queste cose, che è il massimo. Noi siamo una scuola capofila nella provincia come scuola green, una scuola praticamente scuola green che tra le altre cose seguono l'agenda 2030, ma ecco anche tutto il discorso del computer ricondizionato è importante anche da quel punto di vista, in uno sviluppo sostenibile, quindi evitare gli sprechi è un primo passo, quindi anche riutilizzare tutto questo. Ecco, è una cultura importante adesso, siamo abituati adesso se una cosa non funziona la buttiamo via o altro. Ecco, forse per avere un mondo migliore, sostenibile, anche questo è importante salvaguardare l'ambiente.